Ciao ragazzi, benvenuti in Rainbow! Oggi siamo qui nel caffè Dostoevsky Ma come cavolo è? Hanno già trovato l'ostaggio? Va bene Allora, siamo prontissimi qua, sono già stato anche individuato Vabbè, come cavolo hanno fatto in 3 secondi? Ad avere già i droni qua Vabbè, iniziamo subito benissimo Oggi partita non classificata perché non riuscivo a trovare nessuna partita ragazzi Sono rimasto mezz'ora e non trovavo partite Non capisco il motivo, il perché, il per come, il quando Comunque noi qua chiudiamo un po' tutto Buona E io vado di sotto Ecco Arrivano Ciao bello Io odio Bello mio Questi che mettono i giubbotti alla fine Dove cavolo è l'ultimo? Ah, ha abbandonato la partita Fantastico Primo round portato a casa Secondo round E io ho preso Buck con il fucile oro E la pistola zebrata Quindi, tanta roba Allora, il nemico è già stato trovato qua Qua non c'è nessuno Bastardo Ma che cavolo sta succedendo qua Oh, raga Che state a fa' Preso Porca vacca E Beastar ne ha cecchinato un altro Ma io mi lancio Che Bastardo maledetto Preso un altro Oh, Beastar Man of the Match E mi ha ucciso il mio compagno di squadra Non è possibile Non è possibile Hanno sempre la colpa Che sta dietro ragazzi È così Guarda lì il fucile Dove si è baggato dentro la porta In strada Chi ha la colpa È sempre quello che è dietro Chiaramente ragazzi Ha la colpa lui Il mio compagno di squadra Che mi ha massacrato Stava andando io là E purtroppo È andata così Due a uno Un altro è morto Dai ragazzi Non morite Ottimo Vai Si è rifatto Si è completamente rifatto Quindi Ti perdono Perfetto L'ostaggio è dentro al frigorifero Poteva essere una partita Ragazzi Fantastica Perché ero 5-0 Magari riuscivo a ucciderle un altro Andavo a 6-0 Ah qui ci siete Ottimo E invece Purtroppo Purtroppo Lei andà così Allora Qua Piazziamo un po' di filo spinato qua Così se dovessero Andare sotto Lì Almeno Buona Orca vacca Mi servono questi Levati Mi servono questi Giubbi Che prima Non avevo nemmeno Il giubbotto Cavolo Non chiudere Ma cosa Chiudi Lascia aperto Non ne posso più Ragazzi Qua Come ha fatto a non morire Quello Quello Porca vacca Io sono stato anche un pollo Che gli ho sparato così Vare i miei colpi Neanche li sono arrivati Ma vi rendete conto 4 contro 1 Quello è morto col cap Non ci credo Vai massacrate Chi è rimasto Punto di domanda Sulla destra Sulla destra Non c'è nessuno qua Eccolo Io L'avrei un po' Trollato Ragazzi Round 3 Vinto Quindi Siamo con un bel 3 a 0 Ed eccoci qua Nella seconda partita Abbiamo già trovato Il mondo Qua Sono già Tutti quanti Là dentro Però Qui hanno Ok Così così Ragazzi Vado Da sopra Non c'è nessuno Perfetto 4 contro 4 4 contro 3 Ciao lei che spara Smettete di difendere la stanza Vornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato la minaccia E l'ho ucciso No Eeeh Vai così Ragazzi Epocale Questa Entrata in azione Da due lati Differenti Ed eccoci qua Allora Proteggiamo Tutto quanto Vedo che Uno della mia squadra Ha quittato Però ne è subito Entrato un altro Però entrerà Nel prossimo round Quindi la cosa È abbastanza Incasinata Il nemico Ha trovato Il coso di Biorischio Fantastico Va bene così Io qua Copro tutto Vediamo un po' Dove Volete Passare Adesso E vai Così Ingresso Barricato Boom Via Corri Cosa fai La Ma te ne mandano Giù una Cioè Se Fuzza Arriva giù Guardali la Olè Preso sul tallone Cavolo Siamo 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 Tre contro due Siamo Al chiuso Ci sono le porte Barricate L'unico L'ingresso L'ingresso 2 a 1 2 a 1 Perfetto Non Spaccare Sapevo Sapevo io che Io lo ammazzo Quello Io lo ammazzo Ma ha distrutto La porta Per cosa Guardalo Guardalo Se avevo la mia Barricata Io Non lo so Sempre con questi Compagni di squadra Mi tocca essere Sempre Spero per te Guarda Che riesci Vai Sparalo Oh Per fortuna Ti perdono Per questa cosa qua Ti perdono Soltanto perché Hai portato a casa Il match Se no Vara Ultimo round Abbiamo trovato Tutto quanto Sperando che non Escano dalla finestra E che sparino A modalità Rambo Appena detto Ma sono esplosi Mille pezzi No aspetta 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 Fammi utilizzare Questo Grazie Grazie Molto gentile Da parte tua Ma che cavolo E' sto Bug Oh Che sparati Nemico All'esterno All'esterno Carica Carica da irruzione Innescata Carica da irruzione Innescata Va bene Va bene ragazzi Quindi terzo round Vinto Non ho fatto assolutamente Diciamo nulla Spero comunque che il video vi sia piaciuto Se volete tantissimi altri video Lasciate tantissimi pollicioni in su Qua da bistrata è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Chau 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 Chau